Ciao a tutti amici di Discover Messina Sicily e bentornati al nostro appuntamento quotidiano con la nostra rubrica di Discover Messina Racconta. Io sono Sabrina e prima di passare all'argomento che ho scelto oggi per voi, volevo ricordarvi di iscrivervi al nostro canale YouTube, per farlo è semplicissimo, basta cliccare sul pulsante iscriviti che troverete in basso a destra del video e inoltre attivando la campanella sarete aggiornati ogni qual volta noi pubblicheremo un nuovo video. Oggi tratteremo un argomento di rilevante importanza per il suo contesto culturale, ossia parleremo della nascita della scuola poetica siciliana alla corte di Federico II di Svevia. In Sicilia Federico II, imperatore del Sacro Romano Impero e re di Sicilia, aveva creato uno stato ordinato e pacifico. La sua corte a Palermo sappiamo che fu operosa tra il 1230 e il 1245 ed in questi anni si sviluppò la scuola poetica siciliana. I poeti siciliani presero i provenzali come modello e si ispirarono a loro per comporre poesie d'amore. Non si occuparono invece di temi legati alla guerra, poiché Federico II garantiva la pace e la serenità all'interno del suo regno. A questo proposito è significativo ricordare che egli sia riuscito a compiere una crociata, esattamente la sesta, senza combatterla, ma con un sistema di ambasciate, delle trattative diplomatiche, che evitò lo scontro con il sultano al-Malik al-Kamin trasformandosi in un incontro tra filosofi e portò gli occidentali all'introduzione del numero zero tramite il dialogo tra gli esponenti della corte del sultano e Leonardo Fibonacci, che era un matematico pisano alla corte di Federico II. Fermò inoltre la repressione dei musulmani e li trasferì nella colonia musulmana Lucera, dove furono lasciati liberi purché rimanessero fedeli a lui. Federico II fu un uomo molto colto, parlava il tedesco, il francese, conosceva il greco, il latino, l'arabo, il volgare siciliano che egli stesso volle valorizzare e inoltre l'ebraico. La sua grande curiosità intellettuale gli fece guadagnare l'appellativo di stupor mundi, ovvero meraviglia del mondo. Fu un grande mecenate e la sua corte divenne un cenacolo culturale frequentato da filosofi, scienziati, matematici e artisti del tempo e inoltre fu molto tollerante verso le altre religioni. Sappiamo che fondò una scuola rettorica a Capua, una medica a Salerno e inoltre un'università a Napoli. Federico II nel 1231 promulgò una raccolta di leggi, le cosiddette Costituzioni di Melfi, con cui diede ordine al regno e controllò i poteri amministrativi, legislativi e giudiziari, creando così una nuova forma di Stato laico ed accentrato che anticipò la struttura dei futuri Stati europei. Quindi diciamo che tutto convergeva sulla sua figura. Federico II, che era stato incoronato a Roma nel 1220 da Onorio III, stabilì la sua corte in Sicilia, luogo di incontro e fusione di molte culture per la sua centralità nel Mediterraneo, dove creò una scuola di poeti ed intellettuali che ruotavano attorno alla sua figura ed erano parte integrante della sua corte. I poeti siciliani contribuirono in modo significativo al patrimonio letterario italiano e Federico II intendeva avvalersi di ogni possibile mezzo per stabilire la sua supremazia sull'Italia e in Europa. Con la scuola siciliana egli voleva creare una poesia aulica che tenesse testa alla cultura ecclesiastica. I poeti di questa corrente letteraria appartenevano all'alta borghesia ed erano tutti funzionari e burocrati che lavoravano presso la corte di Federico II. La loro produzione era riservata alla libertà dello spirito e non costituiva un lavoro. Gli esponenti della scuola poetica siciliana furono all'incirca 25, tra cui lo stesso Federico II. Diversi componimenti di questi poeti si distaccarono dalla poesia provenzale, presentando già anticipazioni di quella che sarà la scuola del dolce stil novo. La lingua in cui i documenti della scuola sono espressi è il siciliano illustre. I componimenti dei poeti della scuola siciliana trovarono realizzazione nel ventennio che va dal 1230 al 1250 ed ebbero una chiara influenza sulla produzione culturale delle città ghibelline dell'Italia centrale, come per esempio Bologna, città dove visse Guido Guinizelli, padre del dolce stil novo. Tutto questo rafforza l'ipotesi che la lingua italiana abbia tratto impulso fondamentale dai poeti della scuola siciliana. Come viene affermato infatti dallo stesso Dante Alicchieri nel De vulgari eloquenza, qualunque cosa gli italiani scrivono viene chiamato siciliano. La scuola siciliana ha anche il merito però di avere introdotto un sistema metrico nuovo e rivoluzionario, ossia il sonetto, che diventerà il sistema metrico per eccellenza per fare poesia. Verrà usato infatti da lì in avanti dai più grandi delle letterature italiane, quale Dante Alicchieri, Petrarca, Foscolo e via via fino ai giorni nostri. Dopo la morte di Federico II la scuola ebbe un rapido tramonto, anche se il figlio Manfredi, pur non potendosi paragonare ovviamente al padre, ha lasciato segni e documenti del suo amore nei confronti delle arti e della cultura. E anche un altro figlio di Federico II, Enzo di Svevia, si dilettò a scrivere poesie secondo i canoni della scuola poetica siciliana. Il capostipite della scuola fu Giacomo da Lentini. Iacobus de Lentini, domini imperatoris notarius, tradotto Giacomo da Lentini, notaio dell'imperatore, così si firma lui stesso in un documento messinese del 1240. E Notaro lo chiamerà Dante Alicchieri nel canto ventiquattresimo del Purgatorio nella Divina Commedia. Tuttavia sono ben poche le informazioni della sua vita fu probabilmente lo Iacobus de Lentino, comandante del castello di Mazzarino, nominato in un documento del 1240. A lui si attribuiscono 16 canzoni e 22 sonetti e di quest'ultimo schema metrico fu egli stesso l'inventore. Iacobus è considerato il caposcuola dei rimatori della cosiddetta scuola poetica siciliana ed i suoi componimenti coprono un arco di tempo che va dal 1233 al 1241. Dante nella Divina Commedia lo considera il poeta per eccellenza e le sue liriche cantano quasi esclusivamente temi amorosi in cui il rapporto tra uomo e donna è quello tipico della tradizione cortese. La donna assume in sé i più alti valori mentre l'uomo amante vassallo proclama la propria nullità davanti ad essa. Nelle sue liriche analizza l'amore come vicenda interiore con grande acutezza psicologica ed a questo proposito mi piace leggervi la prima quartina di un suo famoso sonetto che dice amore è un desio che venda core per abbondanza di gran piacimento e gli occhi in prima generano l'amore e lo core li dà nutricamento che tradotto significa l'amore è un desiderio che viene dal profondo del cuore e gli occhi per primi generano l'amore ed il cuore poi lo alimenta. Non vado oltre con la lettura dei versi per non rischiare di annoiarvi passo piuttosto alle conclusioni della biografia dell'autore per dirvi che è morto a 50 anni intorno al 1260 e i terremoti che hanno devastato il suo paese natale non hanno lasciato ricordi di lui. Esiste solo un suo ritratto nella biblioteca nazionale di Firenze in una miniatura della fine del tredicesimo secolo e inoltre in un documento rinvenuto a Messina datato 5 maggio 1240 è stata individuata la sua firma autografa. Con questo io vi ringrazio per avermi seguita vi mando come sempre un abbraccio virtuale a tutti ed a presto con un'altra storia con Discover Messina Racconta.